Chiusa la 36esima edizione del Salone Internazionale del Libro, resta l'entusiasmo di 222.000 persone che hanno incontrato ospiti da tutto il mondo e case editrici in un'atmosfera di gioia e partecipazione. Anche quest'anno, Città di Torino e Città Metropolitana di Torino sono state protagoniste al Salone con un unico stand istituzionale e un ricco palinsesto di appuntamenti. Per l'edizione 2024, tutti gli incontri curati dalle due istituzioni sono stati tradotti nella lingua italiana dei segni per consentire la migliore fruizione ai sordi segnanti. Appuntamenti quindi accessibili ai disabili sensoriali grazie all'impegno di Città e Città Metropolitana di Torino che hanno trovato in Anna di Domizio, interprete l'IS, un punto di riferimento nel raccontare l'arte della comunicazione visiva. Bellezza, bellezza nell'arte, l'arte nella comunicazione visiva, quello che può essere una disabilità uditiva diventa una comunicazione visiva nel mondo dell'arte. Buon Salone!